Io sono Anna, New Body Planet, sono Rossella, sono Monica, sono Valentina, ci occupiamo del front desk e dell'area commerciale della New Body Planet, perché il movimento è VITA! Sarà la salvaguarda degli oceani e del pianeta, in linea con l'agenda 2030 UNESCO per lo sviluppo sostenibile, il tema della 49esima edizione del Gran Carnevale Maiorese, che esiterà nella cittadina della costiera amalfitana dal 16 al 26 febbraio. Un grande evento, capace di mettere insieme l'arte della lavorazione della carta pesta, eventi musicali e divertimento. Tre saranno le sfilate dei 5 carri allegorici. Nelle domeniche del 19 del 26 febbraio è prevista una doppia uscita, sia al mattino che al pomeriggio, mentre il giorno 21 febbraio, martedì di grasso, la festa si svolgerà dal primo pomeriggio fino a tarda sera. In particolare i 5 carri sono Nettuno si può salvare dell'associazione Rio, l'isola che non c'è dell'associazione ADS, The Master Trash, chef stellato e rifiuti gourmet dell'associazione Gli Invisibili, un futuro da salvare dell'associazione I Monelli e, non meravigliarti Alice, dell'associazione di Apason, i nuovi pazzi. Il programma della 49esima edizione del Carnevale Maiorese, organizzato dal Comune di Maiori col patrocinio del Ministero della Cultura, conferito ai Carnevali Storici d'Italia, prevede un'ampia offerta di eventi, che vanno dal concerto dell'ex voce dei Mattia Bazzar, Silvia Mezzanotte, in programma il 17 febbraio alle ore 20 e 30, presso la tenso struttura del porto turistico, alla Commedia Teatrale di Paolo Cagliazzo. Terrone si nasce ed io lo nacqui modestamente, previsto il 25 febbraio alle 20 e 30. Ed il programma, predisposto dal direttore artistico Alfonso Pastore, prevede inoltre una serie di eventi per i più piccoli, a cominciare dal 16 febbraio, quando nel lab del divertimento allestito presso il porto turistico, andrà in scena il musical Pinocchio. Tra gli eventi, anche la prima gara di cosplay, il 18 febbraio con iscrizione gratuita e il tradizionale evento dedicato alle mascherine, che si terrà il 20 febbraio con la partecipazione di Stefano Mauriello, The Bubble Artist. Poi il Carnival Party, che si terrà il 20 febbraio, ore 23, riservata a tutte le fasce d'età, e una serata revival di disco music che si terrà il 24 febbraio con il sax di Daniele Vitale. Tra le novità di quest'anno, vi sono anche i fuochi pirotecnici a mare. In programma, domenica 19 febbraio, durante la prima sfilata dei carri allegorici, a Maiori farà tappa anche il Ciocco Italia in Tour, che porterà nella cittadina della costiera dal 18 al 21 febbraio, il miglior cioccolato artigianale e le finissime creazioni dei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia.